Nike ha lanciato una strategia che punta dritta sul D2C, Direct to Consumer. Che cosa vuol dire? Scopriamolo insieme! Mi chiamo Giacomo Melani, mi occupo di strategia, innovazione e digital e se sei appassionato di questi temi, questo è il canale giusto per te. Uno dei cambi di strategia e di business model più interessanti degli ultimi anni è quello che è stato presentato nel 2018 da Nike. Nike ha presentato una nuova strategia che puntava tutto sul D2C, ovvero Direct to Consumer, ovvero la vendita di prodotto direttamente al consumatore finale, saltando quindi gli intermediari. La strategia è stata presentata nel 2018, oggi siamo nel 2021 e quindi possiamo già trarne alcune conclusioni. Uno degli effetti principali di questa strategia D2C è stata quella della razionalizzazione della rete distributiva. Nike negli ultimi anni ha quindi interrotto alcune collaborazioni con retailer anche importanti che però non rientravano più nella sua strategia. L'idea di Nike di andare direttamente verso il consumatore finale porta con sé anche una strategia di posizionamento e Nike si è posizionata su tre livelli. Il primo livello è quello dei grandi volumi, basso medio di gamma con modelli famosissimi che vendono in volumi elevatissimi in tutto il mondo. Per fare ciò si appoggia tuttora a retailer importanti come ad esempio Foot Locker. Qui trovate i modelli più diffusi, le collezioni di gamma medio-bassa e anche alcuni modelli di richiamo che quindi alimentano volumi importanti. Poi abbiamo un secondo livello che è la rete propria di negozi, ovvero la distribuzione diretta di Nike. Nike ha una rete di negozi in tutto il mondo e vende anche ovviamente online, ma di questo parliamo fra un attimo e nei propri negozi vende le nuove collezioni, vende i modelli particolari che si possono trovare appunto soltanto nei suoi negozi. Al secondo livello, quello gestito direttamente in Nike, troviamo anche tutti i modelli professionali di calzatura sportiva, running, tennis, calcio eccetera. Il terzo livello è quello del lifestyle. Voi sapete benissimo che le sneaker oggi sono un accessorio fondamentale del vestirsi contemporaneo. Queste scarpe le trovate in alcuni flagship store di Nike, oppure le trovate online, oppure in alcuni retailer specializzati in sneaker di alto di gamma, oppure nei negozi di moda, che vendono quindi marche di moda, marche di lusso e hanno anche un reparto sneaker con le sneaker di Nike. Infine abbiamo il bondo digitale. Abbiamo il sito di Nike che vende tutte le loro scarpe, ma soprattutto un'app che è il cuore della nuova strategia, dove vengono rilasciate continuamente nuove collezioni e capsule collection e modelli in edizione limitata delle scarpe più famose. Il cuore della strategia di 2C di Nike si trova nell'app Sneakers, che trovate nella scheda qui sopra, e che è un'app dedicata alle sneaker lifestyle, le più fashion. L'app Sneakers fa un ampio ricorso alla tecnica del drop, che è una metodologia di vendita in cui c'è un batch di calzature che viene messo in vendita, si avvertono tutti gli appassionati e si dice che è un'edizione limitata, ce ne sono solo pochissimi esemplari in vendita, cosicché si stimola l'effetto FOMO, ovvero Fear of Missing Out, e tutti gli appassionati corrono a comprare le scarpe facendo sì che vadano esaurite in pochi minuti. Giusto per farvi un esempio, recentemente 23.000 paia di Air Jordan, un'edizione limitata di Air Jordan, sono state messe in vendita con questa tecnica, con prezzi che variavano dai 90 ai 170 dollari e sono andate esaurite in 0 minuti, ovvero come sono state messe in vendita, sono andate esaurite immediatamente. Questa è evidentemente una metodologia di lancio che funziona molto bene. Nel giugno 2020 il zio di Nike ha dichiarato che l'azienda ha raggiunto l'obiettivo con due anni di anticipo e quindi avrebbero alzato l'asticella della penetrazione digitale portandola al 50% dal 30% che era l'obiettivo iniziale. Questo vi fa capire quanto è stato di successo questo cambio di strategia per Nike. In pratica possiamo dire che Nike è riuscita con successo a portare avanti una strategia di trasformazione digitale incredibile e quindi implementare un processo di trasformazione digitale importantissimo per Nike che la proietta verso il futuro in un rapporto diretto con il proprio pubblico e con il proprio consumatore. Qual è il motivo che sta alla base di questo impegno incredibile nella trasformazione digitale verso il D2C? Il motivo ce lo dice lo stesso CEO di Nike, ovvero John Danahoe che ha dichiarato che le persone che si connettano con Nike attraverso una o due app hanno un lifetime value che è fino a 4 volte superiore rispetto a quelli che non lo fanno. Questa affermazione di John Danahoe quindi racconta esattamente qual è l'obiettivo di Nike e ci spiega perché Nike ha creato un ecosistema di app proprio per far sì che il pubblico si avvicini il più possibile attraverso le app al brand. E quali sono queste app? Oltre a sneakers di cui già abbiamo parlato ci sono altre due app che servono per creare questo legame forte con il proprio pubblico e in questo caso con il pubblico di appassionati perché sono app non pensate per vendere ma per creare legami con il pubblico. Uno è Nike Run Club e l'altro è Nike Fitness Club. Ovviamente come dice il nome una è dedicata agli appassionati della corsa mentre l'altra è dedicata agli appassionati del mondo del fitness. L'obiettivo di queste app è quello di creare un legame sempre più forte con il brand e come lo fanno? Certamente se voi iniziate a utilizzare ad esempio per le vostre corse le vostre sessioni di running l'app Nike Running Club voi inizierete a utilizzare quindi l'app tutti i giorni l'app inizierà a misurare, a tracciare le vostre performance, i vostri progressi le gare che fate con i vostri amici e ovviamente a quel punto si creerà un effetto lock-in che tenderà a tenervi all'interno dell'app perché cambiare app a quel punto diventa difficile ma se rimanete dentro l'app di Nike ovviamente rimanete in collegamento con il brand Nike. Insomma lo scopo è quello di creare dei servizi che si adattino alle attività quotidiane del pubblico in modo da creare un rapporto profondo e continuativo con il brand. Con questi risultati e con questo ecosistema già ben sviluppato possiamo immaginare che i concorrenti saranno in difficoltà e quindi che cosa hanno fatto i concorrenti? Beh Adidas che è il concorrente principale non si è lasciato sfuggire questa mossa di Nike e anche loro hanno iniziato a lavorare. Vi ricordate c'era l'app Runtastic che adesso è diventata Adidas Running o giù di lì ed è appunto la concorrente diretta dell'app di Nike e anche Adidas ha lanciato la sua app che si chiama Confirmed e che serve proprio per fare le stesse cose di Sneakers quindi qui sopra trovate anche l'app di Adidas. Conclusioni la bravura di Nike è stata quella di capire per tempo nel 2018 lo shift che si sarebbe creato nelle nuove generazioni e attraverso il digitale quindi ha interpretato questo shift come la ricerca di un legame diretto con i propri consumatori, con il proprio pubblico e l'ha sviluppata in maniera coerente tagliando la distribuzione, tagliando alcuni retailer concentrandosi su alcune fasce di prodotto e su un posizionamento sempre più preciso e allo stesso tempo creando delle app e anzi un ecosistema digitale che permettesse di creare questo rapporto diretto con il proprio pubblico in modo da creare un forte legame fra brand e pubblico che avrebbe aiutato anche ovviamente le vendite e così è stato. E anche questa volta siamo arrivati alla fine del video vi lascio con una sfida provate a pensare se nel vostro settore c'è stato uno shift di questo tipo uno shift verso il digitale e se c'è stato come lo avete interpretato scrivetelo nei commenti così possiamo discuterne insieme sarò ben lieto di confrontarmi con voi se ti è piaciuto questo video fai like, commenta pure e iscriviti al canale cosicché sarai sempre informato sui nuovi contenuti